Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Pokemon Go però questa volta in una versione decisamente differente Oggi stiamo utilizzando un'applicazione cinese collegata a Pokemon Go perché questi sono i veri e propri trucchi in merito a questo gioco Dato che io non faccio tutorial, sapete, non ho mai fatto tutorial sul mio canale, non ho intenzione di farlo, vi lascio in tutti i casi in descrizione il link per arrivare a questo risultato tale Come funziona? È soltanto un teletrasporto signori, cioè per lui noi stiamo da tutt'altra parte del mondo a giocare a Pokemon Go Poi puoi muoverti col GPS e invece di, cioè ti muovi invece di usare il GPS, utilizzi queste freccette qua e vai tranquillo, cioè te ne vai Eh la madonna quanto è veloce, forse dobbiamo andare un po' più lenti, ma si tratta di Pokemon tipo strafortissimi ed è davvero allucinante Cioè vi rendete conto? Che spettacolo È veramente fantastico, latitudine, latitudine e longitudine, non so di preciso a quale latitudine e longitudine questo posto appartenga, devo essere sincero Però, fa riferimento a un dratino, cioè ci sono in Pokemon allucinanti No, allora devo essere sincero, non ho trovato Pokemon tipo fortissimi, però ci sono tipo 6 miliardi di esche, quindi quella è la cosa interessante Con la modalità run si possono schiudere anche le uova, infatti sto schiudendo uova e si schiudono davvero velocemente Cioè questo è praticamente finito il gioco in questo modo Onnidoran, eccolo qua Cioè andando in giro così catturate una quantità di Pokemon incredibile, livellate davvero come i draghi assoluti Cioè in questo modo si fanno i Pokemon, cioè ti puoi prendere qualsiasi tipo di Pokemon Oh, meee, stiamo scherzando, ho usato l'ultra bollo Bagoso sonidoran Ok, perfetto, catturato E è fantastico, vi giuro L'ho scaricata pochissimo e mi ha presa tantissimo Allora, solo delle avvertenze vi voglio dare che se rischia, si rischia il ban tra virgolette Soltanto se venite teletrasportati Ok, cioè se vi teletrasportate, dice no questa localizzazione non mi piace Mi voglio teletrasportare, beh lì rischiate di essere bannati, ok? E devo andare a quest'altra parte Ecco, mettimi, perfetto così Andiamo in questa direzione Perché voglio andare a prendermi le esche Madonna la gente che viene fuori comunque Ecco, no, voglio andare in mezzo a tutte quelle esche perché dovrebbe essere fantastica la questione In più Quello che devo dirvi è che se venite bannati Non c'è nessun problema Ah, una cosa, un paras Ecco, qui in mezzo ci sono state esche Mi fermo qua Almeno prendo qualcosa, spero di prendere qualcosa Piggio in verità non c'è un cazzo Eh, beh, speravo meglio, devo essere sincero, eh Però non che mi damento Anzi, anzi, lì c'è il mare Magari andiamo da quella parte Ci sono, potrebbero esserci dei Magikar Catturiamo sto Piggio È giusto per far qualcosa Allora, se vi teletrasportate all'interno del mondo Se decidete, ok? Voglio andare proprio a Non lo so, in qualche Voglio andare in Giappone E mettete le coordinate in Giappone Allora, qualcosa rischiate Se, potete stare tranquilli che le in Asia Non succede niente Anche se vi bannano È un ban Non è permanente È soltanto provvisorio di 4 ore Se continuate a fare Eh, roba del genere Nel senso, se continuate a fare accessi Teletrasporti con questo metodo Poi potete andare A lungo andare E rischiate il ban Quello definitivo Però, se lo fate una volta State tranquilli che 4 ore Cioè, l'abbiamo fatto anche Un mio amico che è stato bannato Eevee Ecco qua un Eevee Un Eevee Un Eevee Un Eevee Un Eevee Bello Quando vediamo sto Eevee Di essere un po' fotonico Nel livello 240 Una merda, insomma Va bene lo stesso Però sono caramelle Che fanno ovviamente comodo Vi ripeto Trovate tutti i link in descrizione Video Cioè, link al video Che vi spiega come fare il tutorial E soprattutto Link Per scaricare questa roba qua Poi se non mi ricordo Lì per lì Ve lo metto Poco dopo Quindi magari mi scrivete nei commenti Free Ti sei scordato io Però vedo a Ad aggiungere il tutto Andiamo a massacrare una palestra Oh Mi voglio massacrare sta palestra Ah ecco Ho già massacrata Vediamo Ci lascio il po' Che Come è troppo lontano Il cazzo dici Vieni qua Vieni qua Vieni qua Perfetto E blu Ci hanno lasciato un Caterpie al 2 Dai non ci credo Un Caterpie al livello 2 Ci voglio mettere Eh Devo metterlo però CP Vaporeon Perfetto Go Massacriamo un attimo sta palestra Giusto per far vedere Perché non abbiamo fatto mai una Battaglia Adesso Voglio massacrare Sto a San Francisco qualche giorno Non è San Francisco Non so Dov'è sto posto Bim 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 Morto Caterpie Ah c'è un altro Zubat che sta attaccando la palestra Pidgeot Massacriamo male anche Pidgeot Il mio Vaporeon è fotonico Vi giuro Qualcosa di clamoroso C'è Ivisau Oh Ivisauro mi spacca Devo fuggire Schiva 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 Ma in 4 la stiamo battendo Cioè tenere una palestra qua Sarebbe praticamente impossibile C'è un Pokémon che è straforte Da ste parti Comunque Vabbè Massacrata la palestra Ci catturiamo Pidgey Dite un po' se vi piacciono sti giochi Se c'è questa modalità di gioco Penso sia davvero qualcosa di incredibile Non lo so Meglio di così Non potete trovare Cioè andate a spasso voi Schiudete tutte le uova che vi pare Adesso anche prendere le incubatrici Perde un po' di senso Perché potete camminare quanto vuole Certo più incubatrici avete Ovviamente fate molto prima Però fotte sega Cioè adesso tranquilli Poi voglio schiudere anche un sacco di uova Adesso mi è presa Voglio schiudere uova su uova su uova Perché si donava un Pokémon davvero strafagli E straforti Dove ce ne andiamo? Ah in quella direzione Guardate le rischie che ci sono lì No no Al contrario Nidorino Nidorino come cazzo si chiama? Nidoranna Nidoranna Chiedovenia Andiamo a che livello? Allora il 404 Troviamo anche la bacca Perché ne ho talmente tante Che posso dargliene tranquillamente E poi qua ci sono anche 6.000 Pokestop Quindi davvero se state in queste zone È fatta È finita Questo è un metodo per ingannare il vostro GPS In maniera perfetta Ma qualcosa di... Io non lo so Cioè nel senso Poi mi avete detto Nei video che parlo troppo Cioè io dite Free va bene Ma rompi il cazzo Parli troppo Io davvero parlo troppo Non sembra No non lo so Probabile Ah prendere palestre Ve lo sconsiglio assolutamente Perché durano tipo 30 secondi Poi dove devo andare io In quella direzione avevo detto Su Forza Corri Dai veloce Andiamo a vedere se c'è qualche Pokémon raro A parte non ho trovato attualmente Pokémon raro Il che mi fa abbastanza incazzare Cioè speravo di trovare tipo 6 dratini Una roba del genere Invece niente Che tutti gli amici Cioè abbiamo fatto in gruppo Sta roba E hanno trovato tanta 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 roba Di qua Bono c'è un Vulpix C'è un Vulpix che non ho C'è un Vulpix che non ho Ho trovato Vulpix Andiamo altro Pokémon nel Pokédex Al 75 Easy To catch E via Preso Alla grande Vabbè sì l'ho preso dai Due Non è scappato Vulpix Ti rendi conto Allora il problema Sapete Che quando fa questa cosa qua Ti fa due tocchi E poi Ti Ti esce Probabilmente È un ban No non lo so eh Adesso se riesce all'ultimo No non riesce Ok non mi hanno bannato Grande Così Vista brutta Sì nel senso Se vi bannano Dovreste capirlo Dal fatto che vi fa Cioè quando vai a catturare il Pokémon Fa tipo Due Volte L'animazione E poi dopo si blocca Quindi l'animazione Se vi succede quella roba Per quattro ore Non potrete giocare a Pokémon Go Però non è Cioè non è un danno gravissimo Sono quattro ore e basta eh Non è che perdete tutto sto tempo Non so se siete così attaccati Però sicuramente il tempo È meglio Perdere Quattro ore di gioco E poi ritrovarsi qua Perché Cioè conviene a bestia Conviene a bestia Andiamo sulla destra Vediamo se trovo qualcosa No di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua E poi ci sono Non ci sono grandi Pokémon Devo essere sincero Un altro Eevee però Con gli Eevee andiamo A bestia Con gli Eevee Quanto è questo? 365 Non è fortissimo Certo mi dispiace un po' Perché perdi il gusto Di giocare Devo essere sincero Però volevo fare questo video Dovevo farvi sapere Come riuscire a fare certe cose E quindi E va bene È giusto Lo faccio Poi probabilmente Me ne ritornerò a casa Scaricherò l'applicazione Quella regolare E giocherò in quel modo Però Senza troppi problemi Un video Ce lo devo fare per forza Su via Ragazzi Ragazzi sono arrivati in un posto Sto in mezzo a 6000 Es Che vi giuro Sto accatturando Clefari Perché è un Pokémon Che interessante Se riusciamo a trovarne uno Davvero molto alto Tipo al 600 Che palle quando mi scappano Madonna Bisogna usare le bacche E le Megaball Costantemente Poi qua Cioè devi catturare A manetta Andare in giro E catturare il più possibile Ed è Beh questa ovviamente La parte interessante Appunto perché noi andiamo qua Perché ci sono una marea di esche E una marea di Pokémon Ah non ho trovato Pokémon particolari Sto sfruttando soltanto le esche Che anche con le esche Ovviamente roba si trova Al 360 Non ci faccio niente Lo trasferisco alla grande C'è un PJ Guardate Guardate quante ce ne sono Eh voglio continuare Andare avanti A girare uno Ho sbagliato Non da sta parte Da quell'altra Da quell'altra Cioè i Pokémon grandi Preferisco non catturarli Perché ci metterei davvero tanto Sprego Ball E non mi interessa Un altro Nidor Eh questo Nidoran Mi devo prendere Devo catturare tantissimi Perché voglio fare Nido King Che dovrebbe essere un Pokémon Abbastanza forte Se guardate il video scorso Tento di lasciarvi in descrizione Anche quello Eh Ho fatto un video in cui Parlo di tutti i Pokémon Migliori da lasciare Nelle palestre Di In generale Cioè quali Pokémon Devo utilizzare Per mantenere il più possibile E più a lungo possibile Le palestre E Nido King È tra questi Cioè non è tra i Pokémon Più forti Delit Perché ci sono Ne hanno individuati Sei Delit Proprio Tra cui Vabbè Non vi dico niente Poi nel caso andate a guardare il video Oppure se l'avete visto Sapete di cosa parlo E Ci sono però Poi tutti gli altri A scalare Hanno fatto delle varie liste E Vi ricordo Cioè vi dico che Nido King È messo davvero stra bene Quindi è un Pokémon Forte che voglio fare Poi anche per il Pokédex Nel senso non l'ho fatto mai Cioè non l'ho mai Visto Né catturato Quindi mi serve Da aggiungere il Pokédex In tutti i casi Ragazzi penso che per questo video Possa essere tutto Questo vi ricordo È soltanto un video introduttivo Poi Cioè nel senso Non video dimostrativo Vi faccio vedere Quello che faccio Non rischiate il ban Ve lo ripeto È totalmente tranquilla La questione Andate sul sicuro Sicuramente Non vi banano E anche se vi banano Sono quattro ore d'attesa E poi Riaverete il vostro account Ve lo dico ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel Mi piaccio se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se vi è già fatto Di condividere il video Su Facebook Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook e Instagram Mi raccomando Proviamo ad arrivare A mille mi piace Ne diciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi